Salve a tutti ragazzi, sono ZWillix. Oggi sono qui con uno video di GTA Online in cui mostrerò come prendere gratuitamente tutte le macchine della Collector Edition e riuscire ad acquistare a qualsiasi rango il car armato e il buzzard. Ovviamente questi ultimi due li dovete pagare, però ripeto, quelli della Collector Edition no. Cominciamo subito con i glitch. Per prima cosa dovete aprire il telefono, andare su internet e quindi recarvi al sito da viaggi e trasporti dei leggendari motorsport. Dovete scegliere un veicolo a caso, non importa che costi un milione, gratis, centomila e così, io ne video ho scelto l'LGRH8 e quindi quando siete sulla pagina dove c'è il veicolo dove vi dice acquista, dovete andare in alto a destra e premere la casetta, quella lì a sinistra della barra indirizzi. Una volta fatto ciò dovete portare il vostro mouse sulla barra indirizzi senza cliccare niente, praticamente lo spostate sulla barra indirizzi e lo lasciate lì. Adesso vi dico cosa dovete fare. Dovete premere cerchio X molto velocemente su PS3 e BA molto velocemente su Xbox 360. Quando avete premuto molto velocemente i due tasti dovrebbe comparirvi sempre tutto scritto sulla barra indirizzi e la vostra tastiera. Quindi sostituite a car details più numero il numero dove c'è scritto car details. Non so se mi intendo molto bene però guardate comunque sia il video. Per l'hot knife dovete mettere il numero 29, per la chameleon dovete mettere il numero 28 e per la carbon rs il numero 30. Quindi quando siete sul sito, sulla pagina della collector edition dovete sempre fare la stessa cosa. E questa volta al posto di car details più numero dovete mettere purchase car. Io nel video ovviamente ve l'ho mostrato con l'hot knife però il metodo funziona con tutti e tre i veicoli. Quindi quando avete scritto purchase car cliccate invio e avrete acquistato gratuitamente uno dei tre veicoli della collector edition. In questo caso ho acquistato l'hot knife. Non importa che il garage sia pieno, nel caso in cui è pieno sostituite un veicolo e avrete la vostra hot knife oppure i tre veicoli che avete scelto della collector edition. Purtroppo il veicolo non si disponerà nel garage e quindi dovrete chiamare ogni volta il meccanico per avere la collector edition. Passando invece al car armato e al buzzard, ovvero l'elicottero d'assalto, è sempre la stessa cosa. I numeri però sono 1 e 6. 1 per il car armato e 6 per il buzzard. Quindi quando salite sulla pagina dei due veicoli li acquistate. Purtroppo però non c'è un metodo per averli gratis e dovrete pagare per questi due veicoli. Detto questo per favore lasciate un mi piace. Ci vorrò solamente due secondi a cliccare quel bottone blu. Commentate se avete domande, dubbi, richieste e cercherò di rispondere il più velocemente possibile. Lasciate un mi piace alla pagina Facebook, se raggiungiamo un bel po' di persone comincerò anche a pubblicare qualche cazzata sulla pagina. E iscrivetevi se non l'avete fatto per futuri contenuti di GTA V. Da ZWheelix è tutto, al prossimo!